La Blesaglia di Tramaggiore, una nuova rotatoria, un'opera piccola apparentemente ma molto importante per la comunità. Assolutamente sì, perché i concittadini potranno una volta terminata l'opera vivere questa bellissima località in sicurezza. Oggi c'è questa postumia che attraversa questo bellissimo centro e rappresenta di fatto un pericolo per i cittadini per poter passeggiare, per poter vivere questa località. Con la realizzazione di questa rotatoria tutto cambierà, potranno passeggiare, vivere questa, andare a messa tranquillamente senza dover rischiare la vita tutti i giorni. È un ulteriore passo, è un ulteriore intervento per dare dignità ai nostri bellissimi centri, per dare la possibilità ai cittadini di viverli sul serio perché meritano. Nel Veneto la stagione del fare si è aperta dieci anni fa, continuerà? Assolutamente sì, io sono convinto e lavoriamo per questo, abbiamo lavorato questi dieci anni per impostare e per cominciare a lavorare, siamo già a buon punto. Io sono convinto che i nostri concittadini già con le prossime elezioni ci daranno fiducia per poter continuare ancora e per poter concludere questa stagione che non appare in altre regioni italiane. Noi abbiamo un investimento in corso per circa 11 miliardi di euro e andati in giro per il resto d'Italia ma anche il resto d'Europa non troverete regione che si dà da fare con lo stiamo facendo noi.